Quali sono le proprietà di una misura? La scelta sarà di tenerci la configurazione generale che abbiamo esposto nella lezione precedente e di andare a vedere con quella configurazione quali devono essere le proprietà generali di una misura, una misura qualunque. Allora, cominciamo a vedere, diciamo, proprietà elementari di una misura. Allora, prima, primo fatto, abbiamo uno spazio di misura, cioè uno spazio x, una sigma algebra sigma e una misura mu, con le proprietà descritte prima. Andiamo a vedere cosa possiamo dedurre subito. Allora, una prima cosa che possiamo dedurre subito è che mu del vuoto è diverso da zero se solo se mu del vuoto è uguale a più infinito. Mettiamo poi dall'altra proprietà che questo significa che la misura di qualunque sottoinsieme, cioè qualunque elementi di sigma, fa più infinito. Quindi, questo caso, non lo vogliamo, perché, ecco, si tratta di una misura, una misura che vale più infinito su tutti i possibili elementi di sigma, scusate. Chiaro? Però è una misura banale, non serve a niente. Quindi noi considereremo, d'ora in poi, solo il caso che mute il vuoto dei papai. In probabilità, l'evento, diciamo, impossibile, c'è la probabilità zero. In probabilità questo discorso non c'è, perché la probabilità è finita, la misura è finita. La dimostrazione di questo fatto è semplice, cioè il vuoto, se io prendo e con n uguale al vuoto per ogni n, ottengo che il vuoto è uguale all'unione per n che va da 1 a infinito del vuoto, quindi mu del vuoto deve essere uguale alla somma per n che va da 1 a infinito di mu del vuoto. Quindi, gli unici due numeri che possono avere questa proprietà nell'insieme considerato sono zero e infinito. Se ci metto più infinito, estendendo, diciamo, la nozione di serie, anche, tanto qua sono tutti termini positivi, quindi se ci metto un solo più infinito, diciamo che la serie fa più infinito, no? Allora, noi più infinito non lo vogliamo e quindi considereremo, d'ora in poi, solo il caso che muda il vuoto, facciamo insieme. Ok? Seconda proprietà, se E1 ed E2 sono elementi di sigma ed E1 intersecato E2 è uguale al vuoto, quindi sono due elementi disgiunti, allora mu di E1 unito E2 è uguale a mu di E1 più mu di E2. questo perché dimostrazione E1 unito E2 si può scrivere come E1 unito E2 unito e il vuoto scusate, unito e il vuoto unito e il vuoto cioè mettiamo E1 per N maggiore di 2 uguale a vuoto a questo punto io ottengo che la misura di E1 unito E2 deve fare la somma per N che va da 1 a infinito di mu di E1 deve fare mu di E1 più mu di E2 più la somma e Rene che va da 3 a infinito di mu del vuoto ma siccome il mu del vuoto fa 0 qua mi rimane mu di E1 più mu di E2 ok? quest'unione qua è disgiunto è insieme a due e due disgiunti E1 e E2 sono disgiunti per ipotesi e gli altri sono disgiunti per costruzione perchè il vuoto è disgiunto da tutto chiaro? più in generale chiamiamola 2 primo se E1 E2 E2 E1 E3 E3 è una famiglia finita è una famiglia finita di elementi di sigma quindi gli insiemi misurabili allora E uguale l'unione per N che va da 1 a K degli E con N è misurabile e mu dell'unione per N che va da 1 a K degli E con N scusate, devo aggiungere il fatto che E con I intersecato E con J sia uguale a vuoto quando I è diverso da J e I e J sono compresi tra 1 e K la mu di quest'unione è uguale alla somma per N che va da 1 a K della misura di E con N cioè sarebbe a dire se prendo noi abbiamo detto se prendo un'unione numerabile e disgiunta la misura dell'unione è la somma della serie delle misure se lo faccio con un numero finito l'abbiamo fatto con 2 ma se lo faccio con 3, 4, 50 elementi la misura dell'unione sarà qua la somma della serie delle misure posto che gli insiemi siano due disgiunti la risposta è sì come si vede allo stesso modo da K più 1 in poi mettete il vuoto e applicate la numerabile additività quindi è chiaro che la numerabile additività implica questa che si chiama finita additività quello che non è vero è il contrario io posso avere per esempio la misura di piano Jordan 1 dimensionale che ha la finita additività se vi ricordate l'abbiamo dimostrato deriva dal fatto che l'integrale della somma è la somma di integrale ma non ha la numerabile additività chiaro? ok terza proprietà anzi prima di vedere la terza proprietà scusate se mi dilungo su questa seconda proprietà ma siccome questa è una cosa che può essere utile in pratica continuo 2 secondo stavolta prendiamo e con 1 e con 2 insieme misurati e non suppongo che siano a 2 a 2 disgiunti in questo caso però misura di e con 1 unito e con 2 pensate che sia la probabilità a chi è uguale alla misura di e con 1 completate voi più la misura di e con 2 meno la misura dell'intersezione chiaro? perché intersezione quando viene contata due volte quindi se io faccio e con 1 meno e con 2 e con 2 meno e con 1 poi prendo l'intersezione e faccio un'intersezione di questi 3 questa misura è la somma delle misure e andando a fare i punti vediamo se lo faccio con 3 allora devo fare la misura di e con 1 più la misura di e con 2 più la misura di e con 3 poi devo sottrarre quale intersezione cominciamo con quelle 2 a 2 e con 2 se non è chiaro andate a prendere 3 insiemi nella configurazione generale allora andiamo a mettere una stanghetta per ogni zona che contiamo allora quando io prendo la misura di E con 1, quali zone sto contando? questa, diciamo zone intendo contornate da una cuba questa, questa e questa quando prendo, allora questa è con 1 questa è con 2 e questa è con 3 quando con 2 e con 2 conto questa zona, questa zona, questa zona e questa zona quando con 2 e con 3 conto questa zona, questa zona, questa zona e questa zona quindi questa l'ho contata una volta ma questa l'ho contata 2 volte e questa addirittura l'ho contata 3 volte Perché appartiene a tutte e tre insieme Andiamo a togliere Quando tolgo questa Sto togliendo La zona E con uno intersecato e con due Cioè questo vale qua Quindi sto togliendo una di qua E una di qua Poi E con due intersecato e con tre Sto togliendo questo vale qua Quindi sto togliendo una da qui E una da qui E con uno intersecato e con tre Sto togliendo questa zona qui Quindi sto togliendo questa E questa quindi come vedete ho aggiustato queste tre zone ma da questa che era contata tre volte adesso che viene contata zero volte quindi mi basta di aggiungere questa e tutte queste zone sono state contate esattamente una volta più in generale se io ho e con 1 e con 2 e con k la misura dell'unione per n che va da 1 a k di e con n è uguale alla somma per n che va da 1 a k della misura di e con n meno la somma per m maggiore o uguale di 1 minore di n minore di k della misura di e con m intersecato e con n qua stiamo facendo le intersezioni a 2 a 2 poi dobbiamo fare le intersezioni a 3 a 3 quindi facciamo l minore di n minore di n compresi tra 1 e k dobbiamo fare misura di e con n intersecato e con n intersecato e con n il segno ridiventa più perché si parte col segno positivo poi questo è negativo poi questo è di nuovo positivo poi come si finisce si considera si continua a considerare le intersezioni a 3 a 3 a 4 a 4 a 5 a 5 l'ultima sarà la misura di e con 1 intersecato e con 2 intersecato quindi tutti intersecato e con k cioè dobbiamo intersecarli tutti e k che segno deve avere questa questa deve avere segno meno 1 alla k meno 1 vedete perché quando è dispari deve avere segno più se è pari porta il segno meno k meno 1 k più quindi si vanno a considerare tutte le intersezioni si vanno a considerare gli insimi singoli poi le intersezioni a 2 a 2 poi le intersezioni a 3 a 3 poi le intersezioni a 4 a 4 questa cosa non la dimostriamo se volete fate per esercizio la dimostrate per induzione per induzione ok è più facile che fate la figura con 4 insieme capite che funziona insomma vi convincete che funzioni sempre una dimostrazione avrebbe fatta volendo fare l'esercizio ok l'ho voluta fare adesso perché comunque è una cosa che capita ogni tanto nei vari posti dovrei stimare ad esempio la propria di un'unione di 3 o più insiemi e quindi vale la pena di scrivere come si fa ok ripeto si chiama principio di inclusione esclusione allora andiamo a vedere altre proprietà che non abbiamo mica finito grazie a tutti Allora, andiamo a vedere la proprietà 3. Se e con 1 è contenuto in e con 2, chiaramente la misura di e con 1 è minore o uguale della misura di e con 2. Ovviamente possono essere uguali. Quando è che sono uguali se solo se la misura della differenza è meno o meno. Questo perché? Quindi, la dimostrazione è banale, e con 2 è uguale a e con 2 meno e con 1, unito e con 2. Fate attenzione, e con 1 ed e con 2 sono insiemi che stanno uno dentro l'altro. Quindi, è chiaro che quando aggiungo a e con 1, la differenza tra e con 2 e e con 1, ottengo e con 2. Questo è vero sempre. Però, diciamo, il discorso è che questa unione qua è disgiunta. Ok? No, in merita, quella è sempre. Scusate, questo non è vero sempre. Perché se e con 1 non è contenuto in e con 2, questa è e con 1 unite con 2. Che coincide con e con 2 perché e con 2 contiene e con 1. Quindi, quando vado a scrivere adesso la misura di e con 2, questa è uguale alla misura di e con 1, essendo un'unione disgiunta, più la misura di e con 1, meno e con 1. Siccome questa, qualunque misura, è maggiore o uguale a 0, questa è più grande della misura di e con 1. Va bene? Otteniamo questo risultato. Quindi, si dice che la misura, una misura positiva, è una funzione crescente di insieme. Cioè, insieme è più grande, la misura è più grande. Questo è abbastanza intuitivo. Andiamo a vedere una proprietà, una proprietà 4. Allora, per la proprietà 4, consideriamo e con n, contenuto in sigma. Poi, supponiamo che e con n sia contenuto in e con n più 1 per ogni n a partenza. Quindi, supponiamo che sia quella che si chiama una successione crescente di insieme. E, che è uguale all'unione di tutti gli e con n, chiaramente appartiene a sigma. In questo caso, a volte, si chiama anche il limite su n degli e con n perché questa è come se fosse una successione monotona. In questo caso, la misura di e è uguale proprio al limite delle misure degli e con n. la dimostrazione. Allora, e lo posso scrivere anche come e con 1 unito all'unione per n che va da 2 a più infinito di e con n meno e con n meno 1. ecco, forse mi sono dimenticato di scrivere da qualche parte chiamiamola 3 bis 3 primo se e con 1 è contenuto in e con 2 allora la misura di e con 2 è uguale alla misura di e con 2 meno e con 1 più la misura di e con 2. Questo l'avevamo già sfritto. Soprò meglio ricordarci. ok? Quindi, quando un insieme è contenuto dentro un altro la misura dell'insieme più grande è uguale alla misura dell'insieme più piccolo più la misura della differenza. Di quello più grande meno quello più grande. Quindi, cosa adesso applico la numerabile di attività. Cosa ottengo? Ottengo che la misura di e è uguale qua applico la finita di attività e qua dentro applico la numerabile di attività. quindi è uguale alla misura di e con 1 più la somma per n che va da 2 a più infinito della misura di e con n meno e con n meno 1. Ma adesso applico la proprietà 3.1 quindi come viene la misura di e con 1 più la somma per n che va da 2 a infinito della misura della misura di e con n meno la misura di e con n chiara? Adesso continuiamo andiamo a vedere questa adesso è una serie numerica chi è la sua somma e il limite delle somme parziali andiamo a vedere allora quali sono le somme parziali di questa serie se io prendo e con 0 per definizione lo prendo in vuoto posso anche scrivere che questa è la somma per n che va da 1 a infinito della misura di e con n meno la misura di e con n meno 1 perché la misura di e con 1 la misura di e con 1 la misura del vuoto fa 0 e scriverlo con una formula più qua vedete usiamo per l'ennesima volta ci viene comodo il fatto che per noi n parte di un numero naturali parte da 1 quindi e con 0 la nostra mia parte ok andiamo a vedere quindi quella è proprio adesso è proprio una serie andiamo a vedere le somme parziali s con 1 fa la misura di e con 1 s con 2 fa la misura di e con 1 più la misura di e con 2 meno la misura di e con 1 questo e questo si toglie e fa la misura e con 1 in generale supponiamo per intuzione che s con n faccia la misura di e con n allora s con n più 1 a chi è uguale a s con n più la misura dell'ultimo termine ma la misura dell'ultimo termine è la misura di e con n più 1 meno la misura di e con n sostituendo il valore di s con n questo fa la misura di e con n quindi abbiamo dimostrato che se è vero che la misura di s con n sia uguale alla misura di e con n quindi che cosa abbiamo che la misura di e è uguale al limite delle misure di e con n cioè la somma della serie è uguale al limite delle somme parziali limite di s con n che è andato a sostituire uguale al limite della misura di e con n ok questa proprietà si enuncia dicendo che la misura passa al limite sulle successioni crescenti di insieme io ho una successione di insieme l'uno dentro l'altro la misura dell'unione è uguale al limite delle misure in questo caso basta fare il limite delle misure ecco una cosa importante è che questa proprietà in generale non vale per le intersezioni o meglio vale per le intersezioni però ci vuole un'ipotesi aggiuntiva allora per far capire perché per le intersezioni la cosa sia un po' diversa pensate a questo caso qui cancello ok allora facciamo il seguente esempio considerate in R2 abbiamo E con N uguale a tutto R cartesiano 0,1 su N cosa è questa? è una striscia che abbiamo 1 su N e questa striscia qua che la X varia tutto R e la Y varia tra 0 e 1 su N quindi questa striscia non ha né il lato superiore né il lato inferiore è chiaro quando poi vedremo che c'è la misura di Rebeck in R2 che coincide con l'area è chiaro che la misura due dimensionale di E con N quanto fa? secondo voi l'area di quella striscia quanto fa? quanto fa? più infinito perché deve fare più infinito? perché l'altezza è fissa la base è lunga infinita è tutta la retta quindi contiene dei rettangoli di diciamo di area grande quando ci parte no? è più infinito e quindi fa più infinito però che cosa succede a E con N quando N cambia? che con N è più piccolo cioè se io prendo adesso che ne so qua era un mezzo se prendo un terzo la striscia si riduce o no? si abbassa perché N è un mezzo quindi questa è una successione decrescente di insieme le successioni crescenti di insieme si indicano così questo vuol dire E con N contenuto strettamente in E con N più 1 come per le successioni monotone no? così vuol dire E con N contenuto in E con N più 1 in questo caso abbiamo una successione strettamente decrescenti a D quanto fa l'intersezione di E con N? l'intersezione per N che va da 1 a infinito di E con N se io faccio un'intersezione di tutte queste strisce che ci rimane? allora c'è una striscia di altezza di un mezzo la striscia di altezza di un terzo no neanche uno potrebbe pensare alla retta ma siccome la striscia è aperta la retta ci sta con la striscia iniziale e quindi che rimane? il vuoto questa intersezione è vuota non ci rimane niente guardate un esempio analogo l'avevamo fatto con intersezione di 1 su N senza molti cartesiano intersezione 0 su 1 su N quando facciamo l'intersezione venire il vuoto ma diciamo la misura due dimensionale del vuoto l'area del vuoto qualunque misura deve fare 0 che noi abbiamo scuso misure banali e insomma questa tende a questa no che più infinito non tende a 0 quindi state attenti che sulle successioni decrescenti di insieme non male la proprietà che la misura dell'intersezione sia uguale al limite delle misure in generale in realtà basta poco a farla valire cioè basta che un elemento della successione abbia misura finita ok e questo adesso lo dimostriamo quindi provvedere 5 aprovi da 5 aprovi da 5 abbiamo e con n una successione di insiemi misurabili poi sappiamo che e con n contiene e con n più 1 per ogni n e poi supponiamo che la misura adesso guardate prima quando ho fatto l'esempio parlavo della misura di Lebeg era m2 era l'area questa è di nuovo una misura generale in mu supponiamo che mu di e con 1 sia finita non è proprio necessario farlo con e con 1 basta che ce ne sia 1 che abbiamo misura finita ok è chiaro che se funziona con 6 con 7 c'è la misura finita lo fate da 7 in poi tanto l'intersezione da 1 in poi l'intersezione da 7 in poi vista questa condizione è la stessa ok però per comodità prendiamo il primo elemento della successione con la misura finita allora se faccio la misura dell'intersezione di e con n questo è uguale al limite delle misure di e con n quindi varie anche qui posso passare al limite quindi posso passare al limite sulle successioni crescenti di insiemi posso passare al limite sulle successioni decrescenti di insiemi ma a patto che uno degli insiemi abbia misura finita allora la dimostrazione qua è banale però vedete la dimostrazione io ho sempre detto ripeto sempre e ripetisco un'altra volta che sono più importanti le definizioni sono più importanti gli enunciati e sono meno importanti le dimostrazioni cioè le definizioni sapere le definizioni ci dicono che sappiamo almeno di che stiamo parlando sapere gli enunciati ci dicono ci dice che almeno sappiamo quello che stiamo affermando che stiamo dicendo poi lo sappiamo pure dimostrare però le dimostrazioni sono importanti nel senso che fanno capire perché ci vuole questo fanno capire il perché allora qual è questo perché allora se io devo fare andiamo a fare l'intersezione non di tutti ma solo fino a k degli e con e questa è e con 1 intersecato e con 2 intersecato intersecato ma io questa la posso scrivere come se io prendo e con 1 meno e con 2 e faccio e con 1 meno questo chi viene? allora e con 1 e con 2 viene e con 2 è come se fosse una differenza questa è una vera differenza meno meno questo e questo se ne va e diventa e con 2 quindi questo fa e con 2 ma se ci tolgo anche e con 2 meno e con 3 chi fa? fa e con 3 e così via quindi posso dire in generale che quell'insieme lì l'intersezione per n che va da 1 a k degli e con n è uguale a e con 1 meno l'unione per n che va da 1 a k di a k meno 1 di e con n meno e con n e con n e con n allora vediamo un po' se ci metto k uguale a 1 questo pezzo non c'è perché andiamo da 1 a 0 e sta a posto chiaro adesso questa è un'unione quindi intanto posso scrivere che questa misura è l'intersezione per n che va da 1 a k degli e con n questo è uguale alla misura di e con 1 meno la somma per n che va da 1 a k meno 1 della misura di e con n meno la misura di e con n di 1 ok? qua sto applicando il fatto che questa è unione di sguardo allora più in generale se faccio l'intersezione di tutti posso scrivere che la misura dell'intersezione per n che va da 1 a infinito degli e con n è uguale alla misura di e con 1 meno qua mi verrebbe la misura di un'unione infinita crescente che mi fa la somma per n che va da 1 a infinito della misura di e con n meno la misura di e con n a questo punto le somme parziali di questa serie sono queste e qua se andate a fare la somma viene la misura di e con n più 1 non fate tendere n a infinito questo qui è uguale al limite su n della misura di e con n per quale motivo ci vuole l'ipotesi che questa misura sia finita altrimenti altrimenti sia qui ma anche qui non funziona perché mi trovo infinito meno infinito e infinito meno infinito sapete che non si può fare una forma interna quindi il tutto funziona perché tutti questi numeri qua questi numeri qua e questi numeri qua sono tutti finiti se diciamo facciamo la misura infinita non possiamo concludere nulla quindi qua si vedete bene perché ci vuole quell'ipotesi ci vuole perché se no sto ragionamento non funziona quindi noi ci siamo ricondotti siamo passati dalle successioni decrescenti facendo il complementare rispetto a e con 1 alle successioni crescenti ma ci è servito questo e con 1 di misura finita perché altrimenti le cose non funziona ok va bene abbiamo chiarito queste proprietà elementari della misura quindi le ricapitoliamo brevemente la misura del vuoto fa sempre 0 perché l'unica misura per cui questo non è vero è la misura che fa sempre infinita e non ci interessa la scartiamo quindi la misura del vuoto fa sempre 0 poi la misura di un insieme è più grande è più grande la misura passa al limite sulle successioni crescente insieme ecco un'altra cosa che possiamo dire più in generale chiamiamo la proprietà a 6 6s e 6b se prendo e con n contenuto in sigma allora posso dire che la misura dell'unione per n che va da 1 infinito di e con n è minore uguale della somma per n che va da 1 infinito di mu di età mu questa si chiama subattività numerata quindi più in generale la misura è numerabilmente additiva se gli insiemi sono disgiunti e se non sono disgiunti è banale è subattività la disuguaglianza vale sempre se vi ricordate quando vado a fare la somma dei primi k la misura di e con 1 e con k era uguale alla misura di e con 1 più la misura di con 2 più la misura di e con k meno qualcosa perché esista qualcosa nelle intersezioni quindi la disuguaglianza vale sempre e quindi passando al limite ottenete questa subattività numerata in particolare avete anche la subattività finita quindi se 6' primo se abbiamo e con 1 e con k e con 2 e con k la misura dell'unione per n che va da 1 a k di e con n è meno uguale della somma per n che va da 1 a k della misura di e con n e con n la misura di e con 1 unito e con 2 è meno uguale alla misura di e con 1 più la misura di e con 1 questa è la subattività finita quindi ricapito avanti io ho che la misura è una funzione positiva maggiore o uguale di 0 misura del vuoto fa 0 insieme più grande misura più grande è numerabilmente additiva per definizione è numerabilmente subadditiva in generale passa al limite sulle successioni crescenti di insiemi è una funzione crescente di insiemi l'abbiamo detto passa al limite anche sulle successioni decrescenti di insiemi quando sicuramente quando un elemento della successione ha misura finita se questo non è vero potrebbe lo stesso passare al limite oppure no per esempio prendete una successione invece di fare r cartesiano 0 1 su n fate r cartesiano meno infinito 1 su n quindi invece di fare l'intersezione di strisce supponete che quelli siano dei semispazi che arrivano da meno infinito nella y fino a 1 su n quando fate l'intersezione di tutti quanti non mi rimane il vuoto che rimane tutto il semispazio da 0 in giù e in quel caso per esempio passa la linea sulle successioni decrescenti di insiemi perché avete il limite infinito qua infinito quindi come al solito quando le ipotesi sono soddisfatte la tesi è vera quando le ipotesi non sono soddisfatte diciamo non c'è una tesi quindi la conclusione può essere sia vera che falsa a seconda dei casi però in generale non è vera ok con ciò abbiamo a meno di cose che mi sono dimenticato abbiamo completato le proprietà elementari di una misura ok adesso facciamo una pausa ma prima di fare una pausa diciamo quello che facciamo dopo cioè andiamo a definire le funzioni misurabili le funzioni misurabili e gli integrate le funzioni misurabili guardate che il procedimento di definizione sarà più facile di quello di Riemann sarà più facile di quello di Riemann ok perché dobbiamo fare diciamo soltanto un estremo superiore invece di fare estremo superiore estremo inferiore e verificare la coincidenza il difficile invece è fare poi tutti i teoremi alcuni teoremi sono pure facili quelli che andremo a vedere diciamo la terna di teoremi Beppo Levy diciamo Beppo Levy Lema di Fatou e la convergenza dominata sono pure facili il problema è capire quali sono le funzioni misurabili non è così facile come nel caso di Riemann là gli esercizi si fanno un po' intrigati però vedremo che sarà diciamo poi la fine del mondo se uno vuole capire lo capisce benissimo vabbè facciamo una piccola pausa